ciao questa sera c'è il webinar che insegnano l'arte di cambiare e che mi dici forse è il caso che anche tu partecipi è così semplice basta collegarsi ci vediamo lì direi proprio di no nella mia vita non ho bisogno di cambiare nulla sto benissimo così beh se lo dici tu però se fossi in te il tremazzo alle 20.45 me ne andrei su insegnano con tutti magari c'è qualcosa che può sembrare interessante forse hai ragione ultimamente mi sento un pochino pressata e poi mi hanno chiesto di trasferirmi e tutto questo progetto non so davvero che pesci pigliare allora ci vediamo in piattaforma e vedrai che tanti dei suggerimenti per gestire questo momento li troveremo insieme ciao 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 ciao